Siamo diretti a Bomarzo per una visita al Parco dei Mostri, detto anche Parco delle Meraviglie. Con 10 euro a testa il ticket per entrare nel Parco dei Mostri. Siamo nel Parco dei Mostri di Bomarzo, detto Bosco Sacro o Villa delle Meraviglie. È un parco monumentale che risale al XVI secolo, in cui ci sono delle statue di basalto che ritraggono mostri, figure mitologiche. Fu progettato dall'architetto Pirro Ligoria su commissione di Pier Francesco Orsini, che vuole dedicare questo parco a sua moglie Giulia Fardosa. La casa è inclinata. Non si percepisce dalla telecamera, ma la casa è storta, cioè è così tipo la stanza inclinata. La perivenza che causano un po' di snarrivento e si sale per andare alla finestra, si sale! Andiamo a Bagnaia. Come se fossimo arrivato il treno. Ma questo, che sputa da fuori alla fontana e la fa andare, la trovo molto divertente. Un po' di quiete prima di rimetterci in autostrada. Torniamo a casa. In macchina. Arrivati. Questa è la stanza a Bassano e Teverina, B&B, La Magnolia. Eccoci qua, c'è il divanetto, c'è il letto, il bagno. Gentilmente è offerta dallo smart box che ci ha regalato Andrea nel Natale 2017. Grazie Andrea! Per grande! TePart物 otur toy! E muddi! Bu nhưnglane! Anche due!